Allora, un carissimo saluto a tutti, nel video di ieri vi avevo detto i prossimi due giochi che sarebbero usciti su Epic Games. Abbiamo ormai la conferma che il leak era assolutamente veritiero, tra l'altro l'ho pubblicato anche abbastanza di fretta anche rispetto ad esempio a multiplayer che è arrivato dopo ad averlo pubblicato, quindi vabbè, loro fanno altri numeri rispetto a me, però l'abbiamo pubblicato un po' in anticipo. Quindi ormai confermato che Pathfinder ormai è stato rilasciato, questa è la pagina di Epic Games dove voi potete riscattare il gioco e farlo vostro per sempre e quindi conferma totale che il prossimo gioco sull'Epic Store sarà Prey, perché ormai è chiaro la direzione che prenderà lo store. Poi ci saranno tante altre giornate per poter verificare quello che uscirà, non lo sappiamo ancora, ma è chiaro quello che al momento è la direzione di questi due giorni. Vi avevo detto in quel video, se voi aveste riscattato, se a voi interessa Pathfinder e fosse stato rilasciato, che praticamente ci sarebbero stati eventualmente delle novità interessanti di cui volevo assolutamente condividere la cosa con voi. Così è stato e adesso vi dirò qual è la logica. Ovvero che il gioco è assolutamente in inglese, c'è tonnellate di testo, ha anche dei DLC, io dei DLC non li conosco, il gioco l'avevo provato e basta, mi aveva interessato ma poi preso da mille altre cose e non l'avevo proprio minimamente guardato, ma assolutamente adesso lo scarico e col tempo pian piano lo inizierò. Ma la cosa più interessante è che, ripeto, è totalmente in inglese. E quello che adesso vi faccio vedere è la pagina, che poi io le condividerò tutte e due le pagine su... cioè le trovate in descrizione. La prima pagina è la pagina di Steam, quindi non c'entra con l'Epic Games, ma è la pagina comunque di Steam per... anche perché dal 13 di ottobre, cioè pensate da quando è uscito il gioco, loro poiretti sono ragazzi che hanno tradotto e lavorato all'infinito, totalmente in modo indipendente, quindi megagalatticamente bravi loro, e sulla pagina di Steam che vi condivido c'è tutto il lavoro, tutta la... insomma, come averla, come vederla, eccetera. Dando visibilità a questo tipo di pagina, probabilmente, come è successo per tanti altri titoli, magari verrà ufficialmente integrato direttamente nel sistema. Attualmente c'è da fare un sistema, insomma, tipo mod per poterla vedere. Quindi, intanto vi allego la pagina di Steam dove poter comunque magari ringraziare, dar visibilità a coloro che hanno fatto questo apocalittico, ma in senso positivo, lavoro, direi gargantuesco più che apocalittico, e qui trovate un po' il tutto. L'altra cosa che vi condivido è la pagina ufficiale di rpgitalia.net, dove ci sono le varie istruzioni, il master, tutte le cose per poter installare e utilizzare la versione al momento beta della traduzione in italiano. Qui, tra l'altro, c'è anche... trovate il video che fa vedere il gioco nelle parti già tradotte, quindi c'è tutto... vi fa vedere un pochino come è avvenuto. Tra l'altro c'è anche la voce narrante che in realtà è stata presa leggevo da un altro trade. Insomma, però è interessante. È interessante naturalmente per chi ama il genere, chi ama D&D, chi ama Pathfinder come struttura, come logica, anche perché tra l'altro Pathfinder questo è ancora basato sul D&D 3.5, evoluto, modificato quello che è, mentre invece il nuovo Pathfinder si basa invece sulla quinta edizione di D&D. Quindi comunque sono proprio due versioni, due varianti diverse, ma comunque due giochi ottimi. Queste erano le cose che vi volevo condividere e trovo che siano estremamente interessanti. Se lo vorrete giocare, anzi dei fondamentali, magari c'è inglese inglese. Devo dire che quello di Divinity Original Sin, che anche quello è stato fatto da un team, non so se è lo stesso, ma Divinity Original Sin 2 ha un inglese estremamente difficile. Gioca tantissimo quei doppi sensi, con una lingua estremamente elaborata e ricercata, tanto per cui io che generalmente con l'inglese non ho problemi, non ci capivo una mazza. Pathfinder, per quello che ho visto, è abbastanza intuibile, leggibile, anche per chi... Cioè, per esempio, io non ho problemi con l'inglese, ma con Divinity parecchi. Pathfinder, per quello che avevo provato io, zero problemi. Però è comunque il fatto che comunque essere tradotto come Divinity, come Pathfinder, su un gioco che si basa su parecchio testo, è sicuramente importante ed interessante. Io vi ringrazio, come sempre, guardate i video, ragazzi, siamo quasi arrivati, adesso vi aggiorno, ormai mancano un'ottantina scarsa di ore. State facendo un ottimo lavoro, tutti coloro che stanno guardando i miei video fino alla fine dell'anno, li ringrazio, guardate i video, riguardateli, condivideteli, mandateli tutti in loop, tutti quanti del mio canale, perché ormai il raggiungimento dei 4.000 ore è veramente alla portata e arriverò probabilmente al limite con le 4.000 ore entro la fine dell'anno, però vi aggiornerò costantemente, ma voi dovete guardarli tante, 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 tante volte, non gli stessi, magari una volta al giorno guardateli uno, ma guardateli tutti e 350.000 quelli che sono. No, scherzo a parte, iscrivetevi se volete commentare, io sono sempre a disposizione, magari vi interessa anche il gioco, lo avete già fatto, state aspettando il seguito, lo avete già acquistato, insomma ne parliamo volentieri qua insieme, come sempre io vi ringrazio, al prossimo video e ciao!